benvenuti in questo nuovo vlog in questa domenica mattina con i vecchi vlog della domenica allora stamattina è iniziato tutto molto slow perché stamattina mi sono svegliata erano erano nel letto e che cosa erano le erano le 8 e 5 ho fatto la spesa online poi mi era giunto antonio ci siamo siamo stati nel letto un po così guardando cellulare eccetera poi ci siamo alzati stavo per accingermi la macchinetta del caffè erano le 9 la consegna era prevista tra le 8 no le 7 e mezzo che ho fatto la spesa la consegna era prevista tra le 8 e 9 le 9 10 mi squilla il telefono io stavo per accendere la macchina del caffè pronto salve signora sono il ragazzo di cedero cedero e la dove faccio la spesa online guardi che sono rimasto in mi esce il fumo della macchina credo che sono rimasto senza acqua la macchina sono qui all'angolo della strada gentilmente deve venire lì a prendere la spesa ha e visto che c'è mi porti anche per favore una bottiglia d'acqua prima che esploda va bene allora in quel momento mi era appena alzata mi sono un attimo svegliata meglio si qualche minuto il tempo di mettermi qualcosa e arrivo mi sono vestita ho lasciato i bambini a casa perché il marito non c'era ora giunto all'angolo della strada questo qualche poverino stava fermo con il fumo che usciva dalla macchina gli ho dato l'acqua mi sono presa la spesa ho pagato sono tornata a casa e tutto questo dimenticato anche di comprare la frutta quindi diciamo che questo questa domenica iniziata proprio alla cdc proprio proprio come il mio stile di vita il mio mod è riassunto tutto in in pochi attimi di giornata bene adesso visto che comunque sono le 10 inoltrate e ci siamo presi tutto il tempo di cazzeggiare è il momento di no quindi poi i letti il bagno le la cucina si ricomincia lo so la routine è sempre questa però come ogni giorno non soltanto la domenica mattina si inizia con il rifare i letti la cosa bella di rifare il letto quando estate e che non ci sono più moni coperte a tirare e fare reggiare e altro quindi soltanto il lenzuolo che io sbatto un po tiro faccio una piega normale metto i cuscini e ho finito quindi rifare il letto il periodo estivo cameretta e camera da letto voglio un sei minuti ma anche cinque a parte poi vabbè spazzare tutto il resto dopo che ho finito di proprio rifare materialmente il letto sistema un po di robe lasciate in giro ieri questa è invece la cameretta dei bambini qui tolgo le lenzuola le mie invece le ho fatte già il cambio l'ho fatto già ieri qui tolgo le lenzuola e qui sbatto il coprimaterasso e rifaccio il letto di Nicole perché aveva portata di mano le lenzuola pulite quelle di Antonio invece le metto a lavare c'è il sole si asciugano e in serata rifaccio il letto e poi e poi e poi e poi e poi il copriletto leggero lo metto perché me lo hanno richiesto perché dormendo con le finestre aperte durante la sera c'è sempre quel freschetto piacevole che però con la coperta è ancora meglio invece adesso siamo in cucina e rassetto un po prima di iniziare a cucinare anche se i bambini fanno avanti indietro entrano ed escono cucina giardino eccetera però perlomeno lavorare già nel disordine mi fastidiesce quindi adesso do un attimo una rassettata giusto tolgo delle cose che sono di mezzo e poi iniziamo con la preparazione del pranzo della domenica qui abbiamo un cotto tanto per essere cotto dovrebbe esserci cotto mortadella e bresaola quindi abbiamo eh no allora bresaola e mortadella e qui solo cotto certo che serve a bene ma bresaola bresaola mozzarella formaggio coccigliato e macinato che oggi facciamo si ritorna alla alla pasta al forro la tipica pasta al forro della domenica l'uomo latte normale latte di soia tonio pane piadine piadine le penne ligate zucchero a velo salsa di fumodoro succo di freddo due buttanate 40 euro adesso metto a posto la spesa lascio soltanto ciò che mi serve e si inizia con la preparazione del sugo delle polpette e della pasta nel frattempo tolgo 100 grammi di pasta nel caso in cui mio marito voglio l'opzione pasta in bianco quindi mi riservo questo prima di trovarmi poi impreparata ho cercato di prepararmi tutto prima di iniziare a sporcarmi le mani per fare le polpette eccetera ma come al solito non ci sono riuscita dopo vedrete ho dimenticato di aprire il formaggio e quindi ho dovuto risciacquarmi le mani e pulirmelo insomma le mie solite cose le polpette sono fatte di carne trita, un uovo, formaggio, prezzemolo, pangrattato e un po' di curry le mani di olio prepariamo le polpette e le tuffiamo nel sugo adesso che pronta anche la pasta si tratta soltanto di assembrare la pasta al forno pasta, mozzarella, mortadella, sugo, formaggio e basta aspetterò con molta impazienza l'una quando finalmente mangerò dopo mesi una pasta al forno visto il caldo non l'abbiamo fatta per mesi davvero ok, allora adesso è qui in forno iniziamo un attimo al posto la cucina per cui poi devo andare a rientrare le robe da vestigino dicevo io che era tanto per un po' di cotto erano le tre buste ma stessi il cambio, le lenzuola dei bambini che ho tolto con il lavaggio è finito e poi devo mettere a lavare l'illumente al lavoro di una nuca per domani così dovrebbe tutto asciugarsi senza liquidi o asciugatici e poi ci sarebbe da fare mi piange vorrebbe da fare la cavernetta ma davvero non ho nessunissima voglia perché di nuovo e devo piegare ancora una montagna di uova che non ho voglia perché di nuovo quindi io evito non li faccio non li faccio le cose intanto si accumulano e ogni volta non ho sempre voglia di fare e poi ovviamente il mio francese lavora il bambino a seguire la scuola di qualità e si rimane sapere devo trovare la motivazione per farlo ho anche lavato i pennelli solo che questo non mi è riuscito proprio benissimo cioè è pulito ma è rimasta ancora la macchina per fondotenta ora sono tutto puliti per fortuna è davvero io ho un lavoro la pace non è l'ipolle Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa farai pomeriggio? Questo. Mi aspetta questo. Piegare. Questo. Ops. Per due pezzi. Questo invece è il bucato che vado a fare adesso. Adesso tolgo lì. Cosa stava dentro? Ah, le lenzuole e metto questa. Ok, ok, qui è pronto. Bene. Bene. Abbiamo anche il dolce che visto così fa un po' impressione, un po' schifo, ma è un salame a cioccolato con biscotti a cioccolato e tutto a cioccolato. Adesso lo facciamo, ovviamente è congelato. E poi lo presentiamo in maniera più più bella. Beh. Le lezioni per cui mio padre mi poteva regalare un'alba e quindi lo cominci a comprarmi un duetto, un duetto con la brunca. Concludiamo questa domenica pensando un po' a me. Facciamo un attimo questa maschera peeling per togliere i punti neri, che ce n'è sempre bisogno. Dopodiché mi svacco sul divano e rimango là fino a cena. Ciao. Io vi ringrazio per aver guardato il video, per essere stati con me anche oggi, in questa domenica e settembre, e quindi con la speranza di vederci sempre presto, ci vediamo al prossimo video.